Sì, siamo! Come ti senti? Dicchi sei sempre tranquilla. Dillo, dillo. Ok, brava, brava. Tranquilla, tranquilla. Brava, brava. Intanto dammi il 5. Eh? Divertiti. Poi dopo mi raccomando. Ok, brava, 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 brava. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grandissima Giada. Aspetta che ci fa anche una foto tutti insieme. Brava, brava. Sì, facciamo anche Federico. Guarda come sei. Tranquilla. Vai. Ti sei divertito. Vai. È molto bello. Vai, vai. Fede. Ho l'orecchio tutto da Fati. Grazie. Te la fai una foto con noi? Sì, sì, si, subito con noi. Fai. Ehi. 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 È bellissimo. Vieni, vieni, si fa subito una foto. È troppo lento. Lai e via. Qua, le corsetto, la che si fanno una foto. Sì, si è trappato. Vai. Bravi ragazzi. Alla prossima. Vai. Bravi. Vai. Bello, grazie. Ciao Giada. Ciao, grazie. Ma anche queste cose la freddino. Sì, da tu mi sa che la freddino. Grazie.